Dalle prime luci dell'albo, un'operazione antidroga della polizia di Chieti, denominata Rubino, coordinata dalla Didia dell'Aquila, ha smantellato un'organizzazione criminale che aveva come quartier generale l'Abruzzo. L'operazione, definita Rubino da uno dei cani poliziotto che ha fiutato gli stupefacenti, ha consentito l'arresto di 14 persone su 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere per la maggior parte di origine albanese. I poliziotti della squadra mobile di Chieti hanno eseguito perquisizioni a carico di 76 indagati nelle province di Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila, Varese, Milano e Roma. Si tratta di una rete ben architettata, hanno chiarito il capo della mobile Miriam Adanastasio e il questore di Chieti, Ruggero Borzacchiello, che ascoltiamo. Sì, è un'operazione abbastanza complessa, ha visto la durata di circa due anni e oggi possiamo dire che abbiamo disarticolato una importante organizzazione balcanica dedita al traffico di sostanze stupefacenti. È un risultato importante che sta a significare la bontà del lavoro svolto dagli uomini della squadra mobile di Chieti e oggi abbiamo ovviamente avuto la collaborazione anche del Servizio Centrale Operativo di Roma, di numerose questure che hanno inviato il loro personale. Signor questore, quante persone sono state arrestate, di che nazionalità, quale tipo di droga e il quantitativo se può dircelo? Le persone arrestate sono 14. I quantitativi sono stati effettuati durante tutti questi mesi di indagine. Tenete presente che a Milano c'è stata la parte più importante di sequestri, quasi 300 kg di hashish. Sono stati sequestrati anche dei quantitativi di cocaina e anche delle armi che servivano al sodalizio per alimentare il loro business, facendo anche delle rapine. Nazionalità? Sono per lo più albanesi. Avevano qui in Abruzzo il loro quartiere generale, per così dire? Sì, il loro quartiere era praticamente tra Tollo e Guardia Grele. Droga destinata dunque non solo al mercato abruzzese? No, c'era una specie di interscambio tra questi gruppi, non solo per quanto riguarda la possibilità di smerciare questi quantitativi, ma anche di rifornirsi per altri canali, non solo in Italia ma anche all'estero. Canali balcanici ma anche iberici. Gli agenti hanno sventato anche un omicidio che pare i malviventi stessero preparando. I banditi inoltre effettuavano sequestri il lampo di chi non poteva pagare la droga e solo ad azione avvenuta veniva rilasciato. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.